allora buonasera a tutti ci siamo quindi microservices service based event driven architecture questi sono un po i tre macro argomenti che andremo a trattare oggi parleremo di una dozzina una quindicina di argomenti principali pattern e best practices insomma in generale sarà una presentazione sui pattern principali gli errori che io ho fatto quando sono entrato nel in questo mondo delle tendenzialmente dell'architettura rientrata agli eventi e un po di riassunto di quello che ho imparato in troppe notti in sonni a cercare di capirci qualcosa velocemente chi sono michael di prisco sono un senior back end developer in jointly negli ultimi anni con un focus molto forte su su nod lavoro nel campo da circa un decennio sono un contributo open source e un log rocket cb member poi ne parleremo più tardi vado subito al punto principale della della presentazione cioè mark richards molto del materiale che mostro all'interno di questa di questa presentazione arriva da essenzialmente due libri scritti da da mark richards e una serie di video su youtube che consiglio a tutti quanti che sono i software architecture monday da anni ormai porta avanti questa questa tradizione e ogni lunedì appunto pubblica qualcosa beh insomma lui è stato software architect per anni è un autore orelli da più di un decennio quindi sicuramente sa di che cosa parla parliamo quindi di architettura e partiamo dalla base dalla madre diciamo di tutte le architetture se riesco a far funzionare ok la base di tutte le architetture le architetture monolitiche tutti sappiamo cosa sono tutti sappiamo come funzionano e in un modo o nell'altro le abbiamo e le continuiamo ad adottare tutti quanti ancora oggi monolitiche architecture che cosa sono essenzialmente sono dei contenitori di tutto ciò che riguarda la nostra applicazione interfaccia utente business logic interfaccia verso i dati il database stesso il file system tutte le regole di networking firewall per qualsiasi cosa sta all'interno di un singolo pacchettino che che può essere essenzialmente un server o per i più evoluti un container ma essenzialmente fa tutto al suo interno l'abbiamo utilizzate per decenni e sono appunto ancora lo standard de facto della nostra della nostra industria negli ultimi anni però si è cominciato a parlare di architetture a microservizi che cosa sono le architetture a microservizi sono dei metodi quindi a tutti gli effetti il microservizio non è un software non è un applicativo è una metodologia di progettazione software che struttura un'applicazione in servizi ben organizzati tendenzialmente orientati chiaramente alle alle necessità del del business e facilmente scalabili infatti i concetti principali che un po sentiamo tutti in giro relativi ai microservizi sono la manutenibilità la testabilità in un ambiente isolato una frequenza di deploy elevata loosely coupling che è una cosa credo introducibile in italiano quindi non c'è una relazione diciamo un aggancio effettivo tra i microservizi scalabilità l'abbiamo detto e text stack the independent sì questa è un po la cosa che l'ha portato alla ribalta questa text stack independent sì che permette di scegliere lo stack preferito dai vari team che compongono i vari vari microservizi spesso l'architettura microservizi viene anche associata alla metodologia dell'hexagonal architecture si si approcciano molto bene come anche di di spesso viene avvicinato a questo concetto in realtà marche richards dà una definizione un po più specifica un po più stretta del microservizio cioè una singola funzione che rispetta il principio di singola responsabilità quindi è proprio la singolarità ai massimi livelli quindi una singola funzione che poi può essere esposta lo vediamo per chi lavora nel mondo dei microservizi lo vede in un endpoint piuttosto che effettivamente in un evento a cui si risponde piuttosto che effettivamente una funzione che in qualche modo viene viene richiamata attraverso un gateway o quello che sia partiamo andiamo ora al secondo punto prima di affrontare il concetto delle service based architecture cioè il fallimento delle soa da dove nascono i microservizi dal fatto che le service oriented architecture in qualche modo avevano fallito ma ci si portava a casa qualcosa di buono quindi partiamo da cosa sono le soa tendenzialmente sono un architettura software che utilizzava i servizi quindi permetteva di avere tanti servizi che interoperavano tra di loro tanti sistemi che lavoravano in maniera interoperabile mettiamola così i concetti alla base delle delle soa sono essenzialmente le medesime dei microservizi quindi l'indipendenza la scalabilità loosely coupling e quant'altro però ci siamo detti è il titolo della slide è il fallimento delle soa quindi perché è il fallimento delle soa allora adesso nascono in un momento molto particolare dello sviluppo nascono alla fine degli anni 90 all'incirca inizio anni 2000 poi passatemi il fatto che ovviamente qualcuno le utilizzasse molto prima qualcuno ci è arrivato un po dopo però tendenzialmente nascono attorno a quel periodo a livello di popolarità quando ancora molti concetti come il domain driven design i bounded context e quant'altro non facevano proprio parte del comune know-how degli sviluppatori di conseguenza la complessità nel definire i nomi la mancanza di uno standard l'incapacità di separare correttamente i vari servizi è stato uno dei fattori principali che viene portato un po alla luce quando si parla del fallimento di queste architetture un altro dei motivi principali era appunto la mancanza di separazione cioè i servizi erano talmente agganciati tra di loro nella maggior parte dei casi che effettivamente non c'era come si fa per esempio nel mondo dei microservizi si stabiliscono dei contratti e a quel punto un microservizio può essere deployato quindi può essere rilasciato in una nuova versione totalmente indipendente dal resto dell'architettura che gli sta attorno tendenzialmente senza problemi se gestito correttamente nel caso invece delle soa l'intero per l'intero operabilità era talmente forte da creare dei release cycle molto complessi quindi tendenzialmente quando si andava ad aggiornare un servizio si dovevano aggiornare tutti gli altri servizi a scalare di conseguenza non avevi più un ambiente separato che può o meno lavorare assieme avevi a tutti gli effetti un monolite distribuito inoltre le soa nascevano anche in un contesto in cui tendenzialmente si utilizzava l'xml per chi c'era diciamo l'xml relativi xsd che avevano una developer experience assolutamente infernale erano la base di qualsiasi sviluppo ne parlava anche douglas crockford in un podcast qualche settimana fa diceva c'è stato un periodo in cui se non facevi xml ma facevi json eri bistrattato dai tuoi colleghi no eri eri il cigno nero e arriviamo quindi a fallite le soa arrivano i microservizi quindi che cosa sono le service based architecture per service based architecture si intende in realtà la base comune fra le soa e i microservizi quindi sia l'architettura microservizi che le soa sono considerate architetture basate su servizi che poi siano micro che siano macro sono comunque servizi quindi sono modelli di architettura che propongono una enfasi molto forte sui servizi come componente principale sia per funzionalità diciamo di business che non lo vediamo soprattutto nei microservizi le non business quindi magari un microservizio che si occupa di elaborare delle immagini non è specifico per il business ma supporta il business in qualche modo sebbene quindi i microservizi e le soa siano stili di architettura molto diversi condividono molte caratteristiche che possiamo racchiudere come concetto di sba non si trova molto online relativo al concetto di service based architecture infatti anche questo termine deriva molto dagli studi e dall'esperienza di mark richards quindi vi consiglio come al solito i suoi video perché sono veramente illuminanti da quel punto di vista andiamo quindi in questo piccolo schemino tratto tratto da uno dei suoi libri in cui si vede effettivamente la differenza fra microservizi e service based architecture quindi come ci siamo detti i microservizi sono delle funzioni single propose deployate come unità separate un contesto molto specifico in cui lavorano decine centinaia migliaia di di microservizi tendenzialmente sono a livello operativo autonomi hanno una necessità chiaramente di devops abbastanza importante quindi di architettura della soluzione e chiaramente hanno bisogno di anche di un cambiamento a livello organizzativo di come si sviluppa nel momento in cui si passa un'architettura a microservizi le service based invece appunto abbiamo letto che sono alcuni di questi concetti però portate alla loro base quindi sono domini ben definiti per quello si si sposano molto bene anche con i ddt come fanno i microservizi che vengono deployati come unità separate spesso si condivide data e code infatti come vedete anche nell'esempio il database è considerato unico nelle service based architecture anche se ovviamente non è una regola richards suggerisce up to 12 services quindi fino a 12 servizi poi chiaramente in base alla complessità del proprio business possono essere tre come possono essere 50 il concetto chiaramente è quello di dire una volta che hai superato i 12 chiamiamoli macro servizi per dividerli dai micro probabilmente la tua architettura è talmente complessa che magari dovresti ragionare su un altro modo mononite modulare piuttosto che microservizi piuttosto che magari dividere la tua applicazione in layer d'architecture insomma tendenzialmente quando arrivi attorno a quella cifra perlomeno fatti la domanda ecco quello quello è il suggerimento che viene dato devops a questo punto diventa opzionale perché perché con un po d'occhio e qualcuno che tendenzialmente ne sa non hai bisogno di tutta quella parte dell'automatizzazione di infrastruttura che invece è necessaria chiaramente per i microservizi tendenzialmente non ha bisogno di un cambio a livello di organizzazione quindi non hai bisogno di ristrutturare il metodo con cui fai deploy con cui sviluppi con cui fai tutta una serie di operazioni perché diciamo è un modo diverso di gestire un monolite spezzettandolo nella maniera giusta quindi ci siamo detti 12 il numero massimo che mark richards reputa tollerabile una sba 2000 il numero massimo di microservizi che possono tendenzialmente essere tollerabili in un'architettura invece a microservizi chiaramente per chi l'ha visto famosissimo il grafo di netflix dei propri microservizi lì probabilmente sono anche più di 2000 ma chiaramente hanno delle necessità un po diverse passiamo ora al terzo argomento quindi abbiamo definito i microservizi abbiamo definito le sba passiamo ora alle edia quindi alle event driven architectures per edia si intende un paradigma di architettura software quindi anche qui parliamo di un metodo una serie di regole condivise che promuove essenzialmente produzione rilevamento consumo e reazione agli eventi sono totalmente guidate dagli eventi event driven appunto i soggetti principali di questa architettura sono essenzialmente producer consumer channel e processing engine quindi chi produce eventi chi li consuma il canale attraverso il quale tendenzialmente passano e il motore che processa questi eventi una cosa importante da chiarire che spesso dopo ne parleremo l'architettura eventi è associata all'architettura microservizi ma in realtà esula dall'architettura ad ampio spettro che è stata scelta cosa vuol dire essenzialmente che l'evento order placed per esempio potrebbe essere consumato da un microservizio o da un intero monolite piuttosto che da un sba cioè l'event driven architecture non si occupa di gestire la granularità nella nostra architettura né indicarci un metodo preferibile per implementarla facciamo entrare marco ammetti ciao marco ben arrivato ecco qua un esempio molto semplificato di come funziona un'architettura orientata ad eventi o perlomeno i componenti principali quindi come vedete abbiamo un producer abbiamo una coda quindi nostro channel mettiamola così semplifichiamo anche se sono due concetti un po separati i nostri consumatori e tendenzialmente un engine che permette di far passare dal producer al consumer i nostri i nostri messaggi i nostri eventi facciamo qui di quella nota che abbiamo accennato prima microservices event driven architectures i microservizi non sono necessariamente orientati su un'architettura e di a come un'architettura event driven non è necessariamente progettata per stare sopra i microservizi i due concetti hanno tanti punti di forza che risolvono in alcuni casi l'uno le debolezze dell'altro ma non per questo sono necessariamente la soluzione migliore per risolvere ogni problema un monolite potrebbe implementare un architettura ad event driven a tutti gli effetti perché no per togliersi un po di complessità allo stesso modo i microservizi potrebbero preferire la discoverability associata delle chiamate http dirette piuttosto che passarsi degli eventi tra di loro chiaro che ognuna di queste soluzioni ha dei punti di forza dei punti a sfavore ma l'importante è vedere le due cose diversamente tra di loro quindi i microservizi sono un modo di gestire i propri servizi le event driven architecture sono un modo di gestire la comunicazione all'interno della propria architettura quale essa sia parliamo quindi di argomenti principali relativi all'event driven architecture l'ordine con cui li troverete non è esattamente questo perché le ho un pochettino riarchitettato ma i concetti saranno questi partiamo quindi dai metodi di comunicazione quindi come si notifica un evento alcuni pattern principali alcune metodologie e meccanismi best practice design pattern chiamiamoli come vogliamo all'interno di un'architettura eventi e poi parleremo di un concetto abbastanza importante che è coreografia contro orchestrazione a vari livelli partiamo quindi con l'event notification pattern quindi il più semplice da comprendere diciamo e da implementare all'interno di un'architettura orientata agli eventi quindi gli eventi vengono usati per notificare ad altri microservizi nel sistema che sia verificata una modifica interessante qui utilizzo la parola microservizi per semplificare ma chiaramente il concetto l'abbiamo già visto quindi non sono solo i microservizi quindi notifico che cosa notifico l'azione che è stata fatta e tendenzialmente la minima quantità atomica di operazioni di dati necessari per comprendere quale tipo di evento è accaduto questa è un'altra cosa importante che non ho citato prima gli eventi sono tendenzialmente accaduti nel passato tendenzialmente diciamo che è una best practice che vi consiglio di seguire perché altrimenti è un casino si va sul concetto di comandi che è un po più complicato quindi l'evento di notifica è piccolo conciso contiene un riferimento allo stato che è stato modificato preferibilmente si tratta di un identificatore univoco quindi magari pensiamo all'id di un ordine piuttosto che al alla mail dell'utente che è stato modificato e alcuni metadati utili che possono aiutare il consumatore a determinare se la modifica è rilevante per la propria responsabilità oppure no questo quindi è la diciamo il metodo più semplice andiamo ora all'event carried state transfer che viene chiamato anche nell'ambiente keep your local cache quindi mantiene la tua cache locale quindi la caratteristica principale è che viene trasferito uno stato quindi non soltanto l'informazione ma un intero blocco di contenuto che è sufficiente per poter mantenere localmente per un qualsiasi servizio che dovesse ricevere questo evento una copia dei dati quindi event notification l'id 17 è stato piazzato finito quindi order placed metadata id 17 finito l'event carried state transfer invece ci darà informazioni per esempio sull'indirizzo di spedizione di fatturazione del carrello poi chiaramente lì la complessità diciamo del del metadata quindi del payload che viene passato è a discrezione di chi lo sta sviluppando ma tendenzialmente il concetto è quello del keep your local cache cioè utilizzo questo pattern se voglio far sì che nel momento in cui ho inviato questo evento non sia più necessario effettuare una chiamata al servizio di partenza andiamo quindi alla grande via di mezzo sia il sistema di notification che quello di state transfer hanno pro e contro diciamo che nel primo caso ci si aspetta che tutti sappiano per pescarsi le loro informazioni mentre nel secondo caso rischiamo casi di state state quindi di stato stantio quindi abbiamo delle situazioni in cui abbiamo passato così tanti dati e non li abbiamo manutenuti nel tempo di conseguenza abbiamo uno stato stantio quindi la nostra applicazione non è nello stato corretto scusatemi ma mia moglie mi ha chiamato ed è strano niente si è il sistema di notification quindi che che state transfer abbiamo detto hanno dei dei pro e contro e secondo me esiste una buona via di mezzo quindi notificare in maniera informativa i sistemi un po come si fa nei domain events infatti prendiamo ad esempio quelli che sono i domain events quindi una via di mezzo per cui si mandano abbastanza informazioni da non dover necessariamente rifare la chiamata ma non troppi da generare uno stato stantio quindi diciamo nel mondo di dd vengono chiamati domain event quindi per chi fosse avverso al mondo di domain event quello è il compromesso di cui parliamo quindi un quantità di payload non eccessiva ma sufficiente per fare la maggior parte delle informazioni chiaro è che questo ci permette un decoupling all'interno dei nostri delle delle nostre architetture perché non dobbiamo mandare troppe informazioni non dobbiamo conoscere esattamente le informazioni che ci vengono passate ma se il nostro servizio che riceve l'evento ha bisogno di qualcosa in più effetto una chiamata in più tendenzialmente se non ne ha bisogno non lo fa andiamo ora al concetto di event sourcing che è un altro concetto fondamentale nell'architettura orientata agli eventi l'event sourcing è un modello di progettazione architetturale quindi anche qui è un modello un'idea un concetto anche se poi ha chiaramente degli impatti pratici che archivia i dati in un log che viene definito append only quindi di solo aggiunta fa parte di un più ampio ecosistema di modelli di progettazione che tendenzialmente permette di strutturare correttamente le architetture event driven diciamo che in generale se si adotta un'architettura event driven l'event sourcing è alla base di ciò che si sta facendo perché perché i concetti principali dell'event sourcing sono atomicità quindi un evento corrisponde a una singola operazione a prescindere dal fatto che si utilizzi il notification pattern piuttosto che l'event care of the state transfer comunque si parla di una singola operazione ripetibilità quindi ripetendo una serie di una serie di eventi in un secondo momento nel tempo dovrei ottenere lo stesso risultato che è diverso da idempotenza attenzione anche se sarebbe preferibile averla quindi non necessariamente posso ripetere quelle operazioni in un qualsiasi momento del tempo senza che non ci siano delle modifiche ok tendenzialmente se io piazzo un ordine e anche se sarebbe sbagliato nel mio evento non sto passando l'id dell'ordine se io ripeto quell'evento l'ordine verrà ricreato chiaramente quindi ripeto in quel caso dovresti passare l'id dell'ordine proprio per evitare questo tipo di problemi però il concetto è differente fra ripetibilità e idempotenza l'altro concetto principale è l'auditing quindi gli eventi magazzinati dovrebbero essere sufficientemente informativi da poter parlare e da poter essere letti senza necessariamente doverli rieseguire per ottenere lo stato dell'applicazione chiaramente questo è plausibile all'interno di una parte del proprio event sourcing immaginate di avere un e-commerce che fa mille ordine al giorno chiaramente sarà impossibile guardare questo log di eventi uno dopo l'altro e costruire in tempo reale diciamo leggendoli la situazione lì sarà necessario chiaramente rieseguirli per fare un esempio diciamo ipotizziamo che ogni evento che passa all'interno allora il concetto principale dell'eversourcing è che se domani dovesse morire la mia applicazione e dovessi farla ripartire da zero perché il mio db non funziona più non c'è più l'eversourcing dovrebbe poter ripetere tutte le operazioni fino all'attuale stato questo è essenzialmente il concetto chiaro che poi c'è un concetto di proiezioni che viene utilizzato nel mondo dell'eversourcing per facilitare questo concetto ma essenzialmente farla molto semplice replicando tutti gli eventi dovrei ritornare allo stesso identico stato ora faccio una domanda sulla chat quindi mi giro di qua e vi chiedo vi do un minuto e ditemi se avete mai lavorato per come l'ho spiegato su un software che implementa l'eversourcing vi do un suggerimento molto probabilmente lo utilizzate tutti i giorni quindi ricordatevi che l'eversourcing ripetere tutte le operazioni e arrivare allo stato attuale vi do veramente un minuto intanto bevo ditemi se vi viene in mente qualcosa quale software utilizzate tutti i giorni che sfrutta l'eversourcing Davide ci prova con le code vediamo un pochettino se qualcuno ha qualche altra idea Whatsapp database il transaction log Slack diciamo che magari Whatsapp non lo usiamo tutti tutti i giorni quindi questo è un suggerimento Luca ci è arrivato era quello l'esempio anche se anche gli altri esempi sono lampanti una cosa a cui spesso non si pensa è Git Git è il concetto principale è proprio l'emblema dell'eversourcing una serie di eventi, i commit che possono essere replicati in un qualsiasi momento del tempo da una base di partenza condivisa che è il primo commit fino a un qualsiasi punto e a quel punto poter ripartire chiaramente sul Gita hai le touch idea e quant'altro il conto corrente è l'esempio scelto da Greg sì, assolutamente anche il conto corrente quindi molto spesso gli strumenti bancari i sistemi bancari anche se non ne sono a conoscenza sfruttano l'eversourcing chiaramente anche la mail potremmo dire sì, se c'è una mail potrebbe implementare un sistema di event sourcing per poter replicare la propria, diciamo, banca dati Slack sicuramente in realtà Slack mantiene i propri messaggi poi probabilmente lo fa anche con un sistema di event sourcing ma a tutti gli effetti è più un database che contiene il timestamp più un time-based database il transaction log di un database anche potrebbe essere un esempio però credo che Git sia quello che dà un po' l'idea principale di come funziona di cos'è il concetto di event sourcing qui chiaramente abbiamo una GIF di esempio in cui potete vedere la lista di eventi che accadono come vedete anche in questo esempio sono tutti al passato quindi added perché è già accaduto un evento è già accaduto nel tempo non deve accadere di conseguenza si può ricostruire questa serie di eventi tutto ciò che accade all'interno del carrello di un utente andiamo ora al concetto di diciamo entrare Giovanni di coreografia e orchestrazione allora anche questi sono due concetti molto importanti sia nell'architettura microservizi sia nell'architettura orientata agli eventi tendenzialmente i termini coreografia e orchestrazione vengono utilizzati nel mondo dei microservizi questo è un esempio di orchestrazione l'orchestrazione vuol dire avere un orchestratore centrale come un'orchestra da tutti gli effetti che permette la comunicazione fra i vari servizi microservizi, macroservizi come li vogliamo chiamare quindi il nostro orchestratore si occupa di prendere tutti gli eventi da tutti quanti e mandarli a chi di dovere passiamo ora alla coreografia che tendenzialmente esattamente come una coreografia di danza permette agli attori coinvolti di agire in maniera indipendente in base a ciò che accade attorno a loro quindi come vedete da questa gif spero che si veda bene anche nella registrazione c'è un event bus tendenzialmente che però non fa da orchestratore fa solo da canale di tramite per permettere la comunicazione fra i vari servizi qual è chiaramente il vantaggio della coreografia un vantaggio dell'orchestrazione l'orchestrazione chiaramente ci permette di avere sotto controllo tutto ciò che accade all'interno del nostro sistema mentre invece la coreografia ci permette di avere quello che noi chiamiamo appunto loosely coupling quindi il concetto principale dei microservizi i microservizi possono o i servizi entrare e uscire dall'event bus attaccarsi e staccarsi dall'event bus in maniera indipendente senza che gli altri attori ne siano coinvolti e o consapevoli chiaramente con le dovute virgolette del caso chiaro è che se la mia architettura si basa il mio event bus fa partire 50 microservizi quando il mio ordine è stato piazzato io non posso staccare il microservizio degli ordini sperando che tutto funzioni correttamente però tendenzialmente se l'architettura è stata una maniera corretta questa cosa funziona no, Kubernetes non c'entra visto che stavamo parlando di coreografia e di orchestrazione essenzialmente ma il concetto è quello Kubernetes che cos'è? è un attore parliamo di attore anche se in maniera stratta che si occupa di orchestrare tutto ciò che accade ritorniamo ora al concetto delle architetture event driven e parliamo di saga e di workflow ecco questa cosa è molto importante perché spesso troverete il concetto di saga espresso anche per i microservizi perché comunque tendenzialmente è simile ma purtroppo spesso vedrete il concetto di saga associato a workflow anche se adesso vedremo che sono due cose completamente diverse la saga è a tutti gli effetti la coreografia non orchestra i messaggi fornisce un contesto per una serie di messaggi che vengono passati all'interno di un'architettura event driven quindi un po' come le event bus forniscono solo il canale di tramite per una serie di eventi che ci si aspetta che debbano accadere la differenza rispetto al workflow è che invece il workflow è l'orchestrazione quindi è il nostro sistema centrale che si occupa di dire ok questa operazione ipotizziamo un ordine piazzato deve essere composto dall'evento order placed fattura generata carrello svuotato email di notifica mandata ordine inviato alla spedizione insomma tutta questa serie di operazioni e le orchestra quindi si occupa di vedere se sono andata a buon fine di fare dei retrai quindi avrà dei meccanismi di retrai implementerà determinati pattern e tendenzialmente si occuperà appunto di orchestrare tutta la situazione invece la saga no la saga lascia libertà agli attori della saga stessa di intervenire guardiamo quindi un esempio perché il concetto spiegato è facile ma poi effettivamente adottarlo è molto difficile il saga pattern vediamo questo esempio di order payment inventory shipping notification sono cinque step ok che devono effettivamente essere portati a termine per completare un ordine ok la saga non è per definizione non è a conoscenza questo è il concetto fondamentale la saga non è a conoscenza degli attori coinvolti nella saga stessa quindi noi è il nostro order che emetterà un evento di order created che a sua volta farà partire nel servizio di payment la richiesta di validated payment che farà scattare elemento payment validated e così via inventory shipping notification fino all'ordine completato saranno gli attori stessi coinvolti all'interno della saga a occuparsi del rollback come lo fanno? come abbiamo detto la saga fornisce un contesto quindi non è che la saga è totalmente all'oscuro di ciò che accade al suo interno è totalmente all'oscuro di ciò che accadrà al suo interno quindi nel momento in cui noi abbiamo un problema sullo step 3 update inventory quindi per qualche motivo l'update non va a buon fine bisogna tornare indietro la saga è solo a conoscenza dell'attività di creazione di ordine di validazione del pagamento e di update dell'inventory non è a conoscenza delle fasi di shipment di notify di complete order chiaramente qui nasce un problema che si cerca di risolvere in vari modi che è quello di stabilire quando una saga è conclusa tendenzialmente si usa un timeout un timeout accettabile che tutti i membri coinvolti nella saga cercano di onorare e di rispettare può anche essere un giorno nel momento in cui ho fatto tutte le mie operazioni la saga deve soltanto essere chiusa quindi deve svuotarsi deve diciamo liberare la memoria che sta occupando e ha finito il suo lavoro spesso la saga come il workflow è un servizio a sua volta che semplicemente agisce sull'event bus o nel caso di un sistema di orchestrazione chiaramente sarà posto direttamente sull'orchestratore che è un servizio a sua volta e quindi la saga sarà un pattern che viene utilizzato tendenzialmente in un sistema orchestrato non si vede la saga esattamente come un sistema a coreografia non utilizza il workflow quindi questi due vanno un po' a pari passo vanno un po' a braccetto andiamo ora a un'altra domanda fondamentale dell'architettura orientata agli eventi cioè nel momento in cui uso i messaggi nel momento in cui uso gli eventi il rest muore non faccio più una chiamata HTTP diciamo che il concetto si riduce alle fondamenta di queste due cose cioè sincronia e asincronia se non ho interesse nell'attendere il seguito alla conclusione di un'operazione allora una coda di messaggio è la soluzione migliore è imprevedibile asincrona possibilmente dilazionata nel tempo non so quando concluderà la propria serie di operazioni ok e non mi interessa della soluzione perlomeno non mi interessa in quel momento in quel momento attenzione con dei tempi di latenza accettabili cioè vi sarà capitato magari di vedere alcuni siti adesso mi vengono in mente degli esempi magari se qualcuno in chat lo vuole scrivere gli viene in mente qualcosa ci sono dei siti in cui dicono ok il tuo evento è stato piazzato attendi magari attendi un secondo la tua pagina si aggiorna ecco il tuo ID ordine ok mi viene in mente Amazon ma non sono sicuro che sotto il cofano faccia esattamente quella cosa lì però il concetto è essenzialmente quello quindi per attesa e per imprevedibilità della risposta possiamo anche parlare di millisecondi il concetto è che non ce l'aspettiamo in maniera immediata se devo invece necessariamente seguire un filologico e attendere la conclusione di un'operazione allora le chiamate resta sono la cosa migliore un concetto abbastanza ticket one esatto bravo Alessandro il ticket one fa una cosa molto simile quindi ti dice io ho piazzato il tuo ordine l'ho messo nella mia coda quando ho finito ti avviso ti faccio pagare faccio tutto forse paghi prima comunque insomma il concetto è quello porto un concetto espresso da Martin Fowler ben più intelligente di me ben più a conoscenza di me di questi pattern cioè smart endpoints and dump pipes quindi endpoints intelligenti e code diciamo stupide e tubi stupidi per cui gli endpoint rest devono contenere informazioni aggregate importanti mentre i messaggi dovrebbero contenere il minimo indispensabile ad essere compresi quindi lui chiaramente parla molto di event notification pattern anche se l'abbiamo visto prima che un buon compromesso ci può salvare da molte chiamate rest quindi superata questa cosa ragazzi se avete domande ovviamente cominciate a scrivermela farmele così magari ci fermiamo un attimino e ne parliamo intanto vado a un altro concetto interessante che bisogna sempre tenere a mente sia nel concetto di microservizi che nel concetto di eventi però essenzialmente nei microservizi architecture automatici governance che cos'è? è un pattern che prevede di avere dei meccanismi automatici di verifica dei criteri di comunicazione e di sicurezza tra i servizi che vuol dire? vuol dire stabilire dei paletti essenzialmente l'order service può comunicare con il billing service e il notification service per esempio il billing service può rispondere a degli eventi chiamati da un altro servizio o meglio in realtà quello non dovrebbe essere una conoscenza ma può comunicare e ricevere informazioni quindi qua chiamiamo direi parliamo di rest chiaramente soltanto con quel servizio quando si parla di architettura orientata agli eventi stabilire questi paletti di architecture automatic governance è molto difficile perché soprattutto in un sistema a coreografia e magari basato su un saga pattern noi tendenzialmente non sappiamo chi è che verrà coinvolto all'interno della nostra saga diciamo che in generale si mettono dei tracer dei logger di qualche tipo che ci permettono di capire se questi paletti sono stati superati e di conseguenza poter intervenire sul codice in un secondo momento non mi vengono in mente dei pattern per cui questa cosa si possa fare prima e è anche difficile trovare materiale a riguardo però qualcosa cosa si può fare diciamo che tendenzialmente si può fare in ottica di REST API per esempio con delle whitelist ma anche in un sistema di eventi probabilmente con il giusto logging e il giusto tracing della comunicazione fra i vari microservizi si riesce a fare qualcosa altro pattern molto interessante che è sulla bocca di chiunque nel mondo ok se non parli di CQRS non sei nessuno a giorno d'oggi un po' come se sei uno sviluppatore frontend e non ti sei fatto il tuo signal CQRS Command Query Responsibility Segregation che cos'è? esattamente la traduzione di quello che vedete quindi la segregazione delle responsabilità fra comandi e query questo è un tema molto dibattuto nelle architetture orientate agli eventi e poi dopo ne parleremo perché tendenzialmente l'abbiamo detto un evento dovrebbe agire nel passato mentre un comando è una richiesta di qualcosa che deve ancora avvenire la query invece è a tutti gli effetti una richiesta di informazioni quindi command query ne parleremo un pochettino più in dettaglio dopo perché a prescindere da quella che possa essere l'opinione a riguardo ci sono alcune cose interessanti da poter prendere come piccolo quick win riguardo al CQRS Event-based synchronization il consiglio nel mondo dell'IDA è quello di sfruttare le code degli eventi piuttosto che dei processi di background per la gestione della sincronizzazione di dati l'abbiamo detto prima il workflow l'orchestrazione la sincronizzazione in background chiamatelo come volete ma dire a qualcuno cosa deve fare qualcun altro all'interno di un'architettura che dovrebbe essere indipendente facilmente scalabile e deployabile in maniera separata non funziona quindi il consiglio che viene dato è attenzione i background creano dei legami rompono le barriere di contesto non ci sono più bounded context quindi spesso si utilizza quella che viene chiamata Event-based synchronization EJF dice puoi farlo con regole sugli exchange di RabbitMQ sì per esempio se stai adottando RabbitMQ sul tuo exchange potresti stabilire delle regole chiaro il problema rimane sempre lo stesso RabbitMQ o chi per lui dovrebbe essere a conoscenza degli eventi che intervengono quindi a meno che tu non stabilisca dei namespace per esempio quindi order slash nome dell'evento stai comunque creando del coupling quindi è molto difficile portarsi a casa quell'architecture automatic governance fatta come si deve però sì quello di RabbitMQ sicuramente è un'idea interessante che si dovrebbe approfondire dicevamo quindi event-based synchronization piuttosto che background spesso questa sincronizzazione è chiaramente affiancata al concetto di saga nel momento in cui abbiamo una saga l'abbiamo implementata tanto vale che la nostra procedura che solitamente andrà a big background passi attraverso una saga così da poter avere quel rollback vi assicuro che ho provato a mettere in piedi un piccolo proof of concept in node di un saga di un saga manager ed è veramente molto complicato è veramente difficile ed è una cosa che vi sconsiglio di fare da zero non inventate la ruota cercatevi qualcosa di già fatto o piuttosto semplificatela per quanto sia bello il rollback e quant'altro piuttosto un throw di un errore avvisate lo sviluppatore di turno che ci mette mano perché è veramente un casino andiamo avanti altro buon consiglio config service è un pattern molto consigliato cioè molto semplicemente ci dovrebbe essere uno o più servizi che si occupano di configurare il sistema ok e di comunicare i cambi di configurazione all'interno del sistema sarebbe meglio come cito nella slide evitare di avere dei .env infiniti lo sappiamo tutti che lo facciamo in ogni servizio quando queste informazioni possano essere volatili o condivise tra i servizi quante volte abbiamo un database con cui tutti devono comunicare io ho sette servizi ho fatto la mia bella architettura della servizia tutti e sette devono comunicare con quel DB perché lo devo scrivere sette volte tanto vale avere un service che piuttosto mi viene in mente node in runtime potrebbe richiedere quelle informazioni registrarsi una coda di eventi e dire config service quando cambi qualcosa emetti un evento te la configuri così emetti un evento ha cambiato la configurazione così che tutti gli attori coinvolti possano andarsi a prendere la loro configurazione nuova altro punto fondamentale che avrei voluto mettere per primo ma visto che è troppo largo è troppo grande per parlarne e nel poco tempo che abbiamo a disposizione preferisco non farlo falacis of distributed system questa è una cosa fondamentale ragazzi salvatevi se vi volete portare a casa qualcosa di oggi portatevi a casa questo QR code che è un link a una pagina che parla delle falacis dei distributed system quindi le otto cose tendenzialmente anche se poi sarebbero di più da tenere in considerazione quando si stanno sviluppando dei sistemi distribuiti problemi su network latenza banda sicurezza topologia del network la quantità di amministratori il costo di trasporto e l'eterogeneità del network quindi io ve le lascio qui 10 secondi intanto bevo salvatevi questo QR code poi dopo lo girerò comunque il link perché questa è una cosa che spesso non si pensa soprattutto se ci si fa il proprio docker il docker composo quello che sia il locale si fanno delle chiamate HTTP che durano un millisecondo velocissimo bellissimo poi si va online ci mette un secondo la chiamata va in time out il pagamento non viene effettuato la fattura non viene inviata non l'avevamo considerato quella cosa e si spacca tutto ve lo dico perché succede altro pattern interessante da tenere in considerazione circuit breaker il pattern circuit breaker reso popolare sul libro release it di Michael Nygaard tendenzialmente si occupa di stoppare la comunicazione con un servizio o con un'operazione che tendenzialmente ultimamente ha fallito troppo spesso quindi si definiscono delle soglie perché appunto si apre un circuito come se fosse un circuito elettrico quindi si apre e a quel punto la comunicazione non passa non si sprecano cicli di CPU non si spreca memoria tendenzialmente anche l'amministrazione ringrazia perché abbiamo pagato meno di fatture per delle chiamate al nostro servizio in cloud che ci fa pagare qualsiasi cosa e tendenzialmente è un pattern per cui tramite delle dinamiche dei calcoli particolari che va a fare quando lo si va a implementare a scelta degli sviluppatori che lo implementano a un certo punto si fanno dei tentativi e si dice ok proviamo a richiamare il servizio o l'operazione funziona ok allora richiudiamo il circuito lo facciamo andare ecco qua il punto che dicevo prima un punto personale sulla CQRS che io chiamo CQRS Side Effect Prevention è un punto molto personale quindi questa è letteralmente la mia opinione a riguardo io credo che per chi non conosce le architetture orientate agli eventi o l'architettura microservizi o questo mix di due che si voglia il concetto di CQRS sia un po' troppo lontano dal modo in cui siamo abituati a lavorare noi siamo abituati a degli MWC pensate a Laravel pensate a Nest o qualsiasi altro MWC state utilizzando non siamo abituati a segregare effettivamente comandi e query questa metodologia ha tanti buchi in cui si può cadere a tanti pitfall in cui si rischia di incorrere e si è fatto con poca consapevolezza crea più problemi di maintenance che altro credo che però sia fondamentale un concetto principale del CQRS cioè in qualche modo separare bene il concetto di comando e una query quindi e questa è la cosa fondamentale far sì che una query non crei un side effect e che da un comando non ci si aspetti un output significativo se non il risultato della propria operazione Alessandro dice quello che fa l'Enel durante i temporali quando lampeggia la luce esatto esatto ti apre esatto è proprio il circuit breaker però proprio alla fonte quello andiamo ora all'ambulance pattern che come dice il nome stesso credo che sia abbastanza intuibile è un percorso rapido per le richieste un po' come un'ambulanza all'interno di una strada quindi l'auto si accostano e lo fanno passare quindi è molto interessante perché permette a degli eventi che hanno una priorità più alta di arrivare prima ipotizzato un ambiente distribuito molto complesso in cui magari ci sono migliaia di eventi che interagiscono e magari uno veramente importante che deve andare avanti tipo notifica qualcuno qualcosa che deve fare entro un minuto immaginate inviare un OTP che scade fra 60 secondi di sms e mandarlo fra 3 minuti quante volte vi capita di non riuscire a loggarvi perché ci mette veramente tanto ecco l'ambulanza pattern permette di evitare questa cosa attenzione però ha un problema importantissimo che ha questo pattern e quindi adottatelo con cura cioè se troppi messaggi hanno troppa priorità all'interno della mia coda i messaggi con meno priorità rischio di non farli passare mai se tutto ciò che esce a priorità alta a parte quello che non lo è quello che non lo è se ho una scala di eventi abbastanza importante un'architettura che non mi consente di scalare come si deve va male ecco perché tendenzialmente non si utilizzano dei sistemi di priorità sulla coda ma delle code con priorità quindi io ho essenzialmente due code una prioritaria e una non una avrà semplicemente più throughput quindi avrà più capacità di essere elaborata dell'altra avrà più full tolerance avrà più qualsiasi cosa che le possa permettere di arrivare prima e arrivare meglio ma senza togliere tutte le risorse alla seconda qui andiamo nel mondo della non so come dire degli opposti transactional outbox pattern che cos'è è la rottura di un qualsiasi concetto che abbiamo visto relativo all'usley coupling delle architetture a microservizio delle architetture orientate agli eventi cioè si salva la prossima ipotizziamo di avere un set di operazioni per essere sicuri che queste operazioni vadano a buon fine quindi questa serie di eventi diciamo di operazioni che devono essere eseguite vadano a buon fine si salva o all'interno della prima parte diciamo della nostra set di operazioni quindi come vedete nell'immagine customer account si salva nel customer l'operazione da eseguire sull'account nel momento in cui si salva questa operazione qualsiasi cosa che possa succedere da quel momento in poi all'interno della nostra architettura ci permetterà di ripetere quell'operazione in questo caso parliamo di un'operazione diretta quindi customer account sono due servizi sono due ambienti che sono tendenzialmente legati tra di loro ma è abbastanza chiaro se sono stato esplicativo fino ad ora che questo chiaramente rompe i contesti rompe tutte le barriere che abbiamo creato attorno ai nostri servizi perché ci stiamo dicendo che un servizio ne comanda un altro a questo punto non abbiamo più un'architettura separata e ben suddivisa abbiamo un concetto di master slave quindi coupling e maintenance sono sicuramente un problema enorme di questo pattern anche se risolve alcuni problemi chiaramente se io voglio avere una riproducibilità di un'operazione in caso di fallimento così lo posso fare in un qualsiasi altro contesto dovrei implementare degli altri pattern e dovrei comunque dare controllo a qualche altra parte della mia applicazione di gestire questa comunicazione siamo quasi alla fine e parliamo di optimistic UI chi la conosce dirà che c'entra con le architetture orientate agli eventi in realtà c'entra e come perché perché l'optimistic UI anche se è un concetto essenzialmente di front-end è una tecnica di sviluppo che dobbiamo portarci a casa essenzialmente quando stiamo lavorando su delle architetture orientate agli eventi come vedete nell'immagine l'optimistic UI è essenzialmente una UI che prevede l'ipotesi migliore ed eventualmente si corregge in quella peggiore ipotizzate per esempio su non so su Facebook mettete il like se voi andate a vedere il network quel like magari arriva fra un secondo due secondi eppure voi vedete già il più uno all'interno della UI dell'interfaccia di Facebook no? perché? perché quella è optimistic UI quindi ottimisticamente Facebook si aspetta che quel like vada a buon fine e chiaramente ci hanno palate di miliardi dietro che pagano gli sviluppatori per fare in modo che questo sia così però tendenzialmente si aspettano il risultato migliore ma poi si preparano per il peggiore notifichina attenzione non sono riuscito a mettere mi piace ti riporto al post lo riclicchi oppure meccanismi di retrai ma essenzialmente ti danno prima il più uno e poi o in parallelo in contemporanea diciamo effettuano l'operazione andiamo all'ultimo concetto la Chaos Monkey questo è un pattern molto interessante che bisogna utilizzare con cura e sicuramente non come fa Netflix perché lo porterò come caso di esempio all'estremo ma vi sconsiglio di farlo io ho provato a fare una cosa simile all'interno di alcune cose che facciamo in azienda ed è finita malissimo la Chaos Monkey è una scena del caos a tutti gli effetti è un processo una parte della tua applicazione che non fa altro che cercare di spaccare qualsiasi cosa vede quindi vede una porta la chiude vede un container docker che sta girando lo spegne vede un qualcosa su Kubernetes che sta operando sta orchestrando qualcosa lo spegne vede la tua applicazione che ha una chiamata HTTP prova a fare il man in the middle cioè fa tutta una serie di operazioni che sono atti a verificare l'integrità e la manutenzione diciamo dell'integrità della tua piattaforma perché dico di non fare come Netflix perché Netflix ha uno strumento che se non ricordo male si chiama Istrix che è una Chaos Monkey che funziona live cioè c'è un video molto interessante che potete ritrovare su YouTube in cui parlano appunto dell'architettura di Netflix in cui fanno vedere proprio che questo sistema spegne i servizi in produzione che la gente sta utilizzando per visualizzare il film quindi mentre tu stai caricando il tuo chunk il tuo buffer di video da 30 secondi della tua serie tv che ti stai guardando in quel momento quel servizio si spegne da cui tu stai prendendo le informazioni così da un momento all'altro perché la Chaos Monkey ha deciso così perché l'Istrix ha deciso così sì sono masochisti Marco però funziona perché si possono permettere di fare un qualcosa del genere perché la loro architettura è talmente sicura è talmente all'avanguardia è una reliability talmente alta che qualsiasi cosa si può rompere in qualsiasi momento a loro non importa e per mantenere alto questo livello di attenzione perché è una cosa per loro critica hanno questa Chaos Monkey perché? perché per loro è molto più importante cioè è molto più dannoso perdere un minuto perché un servizio è nato giù di 100 persone che sono iscritte al tuo servizio perché rischi che si disiscrivano rispetto che occupare un po' più di tempo per gestirti bene la tua architettura o assumere 500 persone in più perché facciano sì che questa cosa funzioni portiamoci quindi a casa le ultime buone idee e poi ci siamo CQRS Synchronous Comments vi ho messo anche il link al video un comando non mi ricordo chi è che aveva fatto questo video era una presentazione molto interessante relativa al CQRS Synchronous Comments quindi un comando può tornare lo stato della sua esecuzione se chiamato in maniera sincrona quindi ipotizzate di avventurarvi nel mondo del CQRS portatevi a casa questo buon consiglio cioè il comando a differenza dell'evento che una volta emesso chi se ne frega dovrebbe poter rendere coscienti chi il cosciente servizio che chiama quel comando della sua riuscita tendenzialmente non ci si aspetta comunque una risposta attenzione quindi qua non diciamo che il comando fa da query ma il comando ci dice sono andato a buon fine altra cosa interessante dell'EDA Public APIs il suggerimento è quello di non esporre i dettagli implementativi dei nostri eventi all'esterno quindi ipotizziamo di avere una catena che porta a termine il nostro ordine order placed billing started billing completed e payment completed all'esterno saranno semplicemente order completed perché? perché meno dall'esterno si sa della nostra architettura meglio è cosa intenderlo all'esterno? che per Public API noi possiamo intendere tranquillamente un event bus che comunica verso l'esterno questa cosa si fa in tantissime architetture ed è effettivamente molto comoda quindi ti notifico determinate cose tu ascolti su quel bus e fai quello di cui hai bisogno tendenzialmente questi bus sono delle repliche in una DMZ quindi in una demilitarized zone che viene messa a disposizione e viene messa in contatto a te e al tuo cliente che utilizza le tue public API quindi tendenzialmente non è lo stesso bus che usano tutti ultima cosa event sourcing one way commands do not exist Greg Young che non è proprio il primo dei infatti di event sourcing e di DD in generale parla di come in un sistema di eventi non esistono i comandi a singola direzione ma che il tutto debba essere un evento quindi uno dei padri fondatori dell'event sourcing e del DD in generale dei concetti che stanno attorno alle IDA e tutto quel mondo dice attenzione perché secondo me i comandi non dovrebbero esistere potrebbero essere degli eventi a tutti gli effetti che però non comandano mai nulla è quello il concetto principale delle architetture orientate agli eventi sennò sarebbero orientate ai comandi è per quello che si parla spesso del CQRS o come il bene assoluto o come il male assoluto ma un po' come i microservizi c'è chi dice ci hanno risolto tutti i problemi o come adesso sta facendo un tanto scalpore Amazon che è tornata al monolite poi se vuoi vedere non è proprio così ma insomma tendenzialmente si cercano di vedere i due i due aspetti estremi quando in realtà ci sono due facce della medaglia quindi anche se ho un bottone che deve far partire un'azione sarebbe meglio avere un evento del tipo request dispatched per esempio non lo so un qualsiasi cosa che però sia comunque al passato e che sia comunque un evento brevissima che esistere poi abbiamo chiuso come facciamo in Jointly per farvi capire che quello che dicevo all'inizio cioè che le idea non sono la soluzione a tutto né tantomeno lo sono i microservizi in Jointly abbiamo un monolite distribuito abbiamo un'architettura vecchia di anni che stiamo rinfrescando stiamo facendo veramente un enorme lavoro dietro e quindi se c'è qualcuno del mio team che mi sta guardando ciao e grazie in Jointly abbiamo questo monolite distribuito che comincia a comunicare ad eventi quindi abbiamo degli eventi che vengono fatti passare all'interno dei nostri chiamiamoli macroservizi che però sono ancora abbastanza agganciati tra di loro ma questo ci permette di snellire una parte di quel coupling che abbiamo quindi tutto ciò che è una connessione diretta diventa un evento questo evento viene fatto ascoltare su un bus e chi ne ha bisogno riceve le informazioni di cui ha bisogno lo facciamo con il concetto di quella famosa via di mezzo event notification e event care the state transfer quindi non salviamo effettivamente lo stato ma salviamo abbastanza informazioni da poter portare avanti la nostra operazione e abbiamo tutte le informazioni per poter effettuare una chiamata rest essenzialmente grazie a tutti Grazie.